Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi cosa facciamo? Video Yoga Challenge seconda parte! Le mie cucciole si sfideranno di nuovo a questa partita Quindi mamma andrà a scegliere di nuovo 5 carte a testa e dovrete fare le stesse posizioni Vediamo un po', siete pronte piccole? Ok, eccoci qui! Carte scelte 5 per Nicole e 5 per Noemi Cominciamo subito con la prima carta per Niki Ok, prima carta per Nicole, posizione del guerriero Vai amore, vai che ce la puoi fare Mano avanti e una dietro Un po' dritta Niki Ok, perfetto, bravissima! Tocca a Noemi, siamo pronte? Noemi, posizione dell'acula Riprova! Bravissima, Noemi! Niki, sei pronta per la seconda man? Sì! Bimbi, mi raccomando, mettete un bel pollicione in su per Niki e Noemi! Se io ci riesco a mettere tanti, no! 100 pollicioni in su! 100 pollicioni in su? Ok, e iscrivetevi! No! 162 pollicioni! 162? Sì! Va bene, e iscrivetevi! Al canale Niki e Noemi Channel e cliccate sulla campanellina e andiamo! Seconda posizione, oddio, per Nicola! Niki ce la farai? La posizione dell'arco! Vai Niki! Che ce la fai? Vai Niki! Vai Niki! Ah, bravissima! Tanti applausi! Tu scimmia, chi ti ha detto che tu sei scimmia? Sei scimmia? Siamo pronti Noemi? Siamo pronti Noemi? Sì! Seconda carta per Noemi! Oh, Noemi! La posizione della lampadina! No! Vai! È facile! No! Bravissima Noemi! No! Terza posizione per te! Sei pronta? Sì! Ti sei un po' riscaldata ai muscoli? No! Adesso facciamo un po' di riscaldamento Niki! Vai! 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 Gambe su! Vai! Gambe su! Perfetto! Noemi ti sei riscaldata? Sì! Sì! Quando? Prima? No! Sì! Bu, giardino mia! Ok, Niki, sei pronta? Posizione del gatto! Adesso ti faccio vedere come mi sono scaduti dentro! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sdentatina mia! Vai! Posizione del gatto, Niki! Mettiti di lato che non ti vediamo! Vai! Schiena inarcata verso l'alto! Mamma! Mamma, aspetta! Hai ragione! Io mi dimentico sempre! Vai, amore! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Bravissima Nicole! No! No, fra il cinque, è troppo complicato! Noemi, sei pronta? Sì! Per la tua prossima carta? E vatti a mettere lì! Tappeto morbido! Tappeto morbido! Noemi, terza posizione per te! Panca bassa! Sui gomiti! Guarda, così! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Brava, Noemi! Yeee! Tanti lai! Niki! Quarta posizione! Stavamo per perdere Noemi sul pavimento! Quarta posizione per Niki! Facilissima, Niki! Posizione del gabbiano! Facciamola vedere a casa! Eccola qui! E' uguale! Praticamente identica! Uno, due, tre, quattro, cinque! Brava, Nicole! E' Noemi! Vai, Noemi! Pronta per la tua quarta posizione? Oh, oh! Un po' difficilina! Posizione per Noemi? La candela! Vai, Noemi! Candela! Gambe su, su, su! Uno, due, tre, quattro, cinque! Bravissima, Noemi! Yeee! Io la candela non lo so fare, sono mio cugino! Non ti preoccupare, imparerai, imparerai! Quinta ed ultima posizione per Nicola! Eccola qui! Ed è molto facile! Ma, dimmi! No, Nicole farà la posizione dell'albero! Uno, due, eh! Uno, due, tre, quattro, cinque! Brava! E' sveluta Nicole! Noemi, che fai? Sei pronta? Vediamo che non esce l'altra volta il pesce, così fa ridere! No, speriamo di no! Noemi, sei pronta per la tua quinta ed ultima posizione? Ah, questo è un po' difficile per Noemi! Noemi! Ponte! Vai! No, devi prendere i piedini, però! Ce la fai? Fai così! Fai insieme a Nicola! Vai, fatela insieme! Fai vedere, Niki! Ma io sto dietro, aspetta! Vai, vai, ti vediamo, ti vediamo! Non ti preoccupare! Brava! Vedi, devi prendere le caviglie, Noemi! Brava! Anche l'altra! Metti i piedi giù! Alza un po' il corpo! Alza un po' il corpo! Uno, due, tre, quattro, cinque! Va bene, Noemi! Dai, te la passiamo buona! Dai, dai, dai! Siete state bravissime! Ok, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mettete tanti pollici in su, iscrivetevi al nostro canale, Niki e Noemi Channel, cliccate sulla campanellina e non perdetevi i prossimi video! Vai, Niki! Vai, amore! Uuuuh, bravissima! Vai, Noemi! Tanto! Portati! Vai! Ma io! Eeeh! Ragazzi, manca solo la cosa! Fare la ruota! Vai! Grintosa! Vai! No, la ruota, amore! Saluta, Noemi, in mezzo alle carte dello yoga! Saluta! A chi mi ha? Di ciao a tutti, Noemi! Ciao a tutti! Ah! Però, non dicate altri video! Ciao a tutti!